La partita sul premio di maggioranza a Vittoria non è affatto chiusa. Nell'ottobre scorso la sentenza del Tar aveva respinto i ricorsi presentati dai candidati non eletti nelle liste Forza del Sud e D'Aiello Sindaco, perché queste liste avevano visto eletti un minor numero di consiglieri a causa dell'attribuzione del premio di maggioranza alla coalizione che sosteneva il sindaco eletto Giuseppe Nicosia. Il Tar di Catania aveva respinto i ricorsi e confermato i 18 consiglieri per la coalizione di maggioranza e i 12 per la coalizione in Cardone-Aiello uscita sconfitta dalle urne. Aiello aveva preannunciato ricorso al CGA. Ora, su una vicenda analoga, quella che si è verificata al Comune di Gela, il Consiglio di Giustizia Amministrativa avrebbe dato ragione ai sostenitori della coalizione sconfitta, quella che sosteneva il candidato sindaco speziale. La sentenza 812 dell'11 novembre scorso avrebbe sancito che per il calcolo dei voti validi non bisogna tener conto dei voti delle liste che non hanno superato la soglia del 5%. Il sindaco eletto, Angelo Fasulo, non avrà quindi la maggioranza. La vicenda gelese riaccende le speranze delle liste di opposizione a Vittoria e l'ex sindaco Francesco Aiello spiega che la sentenza del CGA per Gela ha assegnato correttamente il premio di maggioranza alle liste di opposizione che avevano superato la soglia del 50%. Se questo principio è stato affermato per Gela, lo stesso secondo Aiello accadrà per Vittoria. Nicosia quindi presto non dovrebbe avere più 18 consiglieri ma solo 14. Ora, afferma Aiello, aspetteremo qualche mesetto per risolvere la questione a Vittoria. Diversa la posizione dell'attuale sindaco, nessun caso giuridico è uguale ad un altro, afferma Nicosia. La vicenda di Gela è diversa da quella di Vittoria e Aiello si illude se pensa che la sentenza del CGA per Gela possa avere influenza sulla decisione che riguarderà Vittoria.